Perché il nome di Cosentino divide così aspramente anche all'interno del centrodestra campano? Ma nessuno nel centrodestra campano non si sente e non si dichiara mica di Cosentino. Come no? Caldoro? Caldoro? Cesaro? No, Cesaro proprio no. Cesaro non credo ne abbia mai detto male, non credo si trovi nella condizione di poter fare il moralista per gli altri, se mi consente. Nessuno, lei parli con Caldoro, con Cesaro, la verità è che loro vogliono essere amici di Cosentino, in privato, però vogliono immarginare Cosentino. Veda, mara maldeggiare sulle vicissitudini giudiziarie di Cosentino è un atto di meschinità che non trova pari, soprattutto da parte di coloro che devono tutto a Cosentino. Perché? Perché Cosentino è colui il quale, se presente sulla scena politica, le riduce ai nani che sono. E oggi ne viene ripagato. E oggi ne viene ripagato con la moneta amara della ingratitudine.